Tutti pronti? Iniziamo! Ehi, tagliamo il corso! Mettiamoci al lavoro, su! Chris, l'abbiamo perso? Negativo, Ethan Winters è al sicuro. Sta bene, nonostante tutto. E Lucas Baker? È l'unico che può condurci alla Connections. È il prossimo sulla lista. Bene, sono nella miniera. Il segnale è stabile. Ti sento forte e chiaro, Chris. Sembra che Lucas usi la miniera come nascondiglio. Ma la prima unità ha perso i contatti prima di poterci dire altro. Quanti ne abbiamo persi? Tre dei migliori. L'ultimo segnale veniva da un laboratorio o più avanti. Dovresti andare a controllare. Roger. Dovresti andare a controllare. Iniziamo al Messias. Una mia 반ciaolo argora. È una grandia. È una grandedietà. Piñera iniziamo al tempore. Oh, no. 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 So che deve essere difficile e a dire il vero, molti dei membri sono con noi sin da prima che fossimo incorporati come GMP. Quel che ne è rimasto è solo il nome. Concentriamoci sulla missione. Oh, no. 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 Oh, no.